Dopo il grande successo dello scorso anno, appuntamento con il corso di fotografia targato il fatto e realizzato con la preziosa collaborazione dell'associazione fotografica Nino Cascarano di Molfetta. Domenica 19 settembre, nella fabbrica di San Domenico, si è svolto il primo dei tre incontri tenuti da Amino Altomare. I prossimi incontri sono in programma il 26 settembre e il 10 ottobre. Il corso, la cui partecipazione è totalmente gratuita, ha visto l'adesione entusiasta di oltre 50 allievi. Nei successivi incontri si parlerà dell'uso del diaframma e della sua influenza sull'immagine, profondità di campo e nitidezza. Ed ancora il tempo di esposizione, l'uso del tempo e l'influenza sull'immagine, il mosso, panning e tecniche relative. L'uso del flash, non mancherà ovviamente un approfondimento sulla conoscenza dell'obiettivo. Tipi di obiettivi, differenze tra grandangolare e tele, effetti nell'uso. Si passerà quindi alla composizione della foto, gli elementi base della composizione, scatti di prova e verifica dei risultati. A conclusione del corso teorico verrà programmata una escursione fotografica per esercitarsi sul campo con la partecipazione di modelle e modelli. Grande soddisfazione per il numeroso pubblico intervenuto è stata espressa dall'editore dell'Activa SRL, società che pubblica il fatto, Giulio Cosentino.